Allora che oggi la sinistra nella sua massima parte sia aderente al dogma neoliberale credo sia un fatto di cui possiamo anche non discutere, si tratta semmai di capire come è potuto accadere. Non dico nulla di nuovo se dico che il capitalismo negli ultimi 30 anni ha fatto le sue principali conquiste non nonostante la sinistra ma grazie anche alla sinistra, possiamo anzi dire che il capitalismo negli ultimi 30 anni ha fatto le sue riforme sia che ci fosse la destra sia che ci fosse la sinistra al potere. Vogliamo fare alcuni nomi, Massimo D'Alema in Italia, Tony Blair in Inghilterra, Mitterrand in Francia, la svolta del rigore, il tornante del rigore fu fatto da Mitterrand. Quindi che la sinistra nella massima parte delle sue espressioni sia interna al dogma neoliberale mi pare difficilmente confutabile. La sinistra è quella che oggi sostiene l'Unione Europea, sostiene Macron in Francia, Mario Draghi in Italia. Quindi è, possiamo dire, l'explanandum per cui dobbiamo trovare un explanans, cioè dobbiamo trovare una causa che spieghi questo fatto. Allora, io propongo una duplice tesi, due tesi che possiamo analizzare separatamente ma che agiscono insieme nella realtà. Da un lato abbiamo una sinistra che, direi in maniera compiuta dall'89 ma con un processo che inizia già anche prima in qualche modo, ha metabolizzato lo sguardo dei vincenti. Cioè la sinistra dopo l'89, venuto o meno il muro di Berlino, in Europa metabolizza lo sguardo delle classi dominanti e quindi cerca di riaccreditarsi come parte del progresso capitalistico e lo fa talvolta anche con più zelo, con più vigoria rispetto alle destre. Le destre sono già la parte del capitale, non hanno bisogno di accreditarsi. La sinistra invece, dopo l'89, ha lo zelo del neofita, del convertito, quindi è ancora più capitalistica in molti casi. E questa è una prima possibilità interpretativa. La seconda, e qui chiamo in causa dopo l'89 il 68, la seconda tesi che io sostengo è che il capitalismo dal 68 in poi tende a diventare esso stesso un capitalismo gauchiste, un capitalismo che metabolizza molto dello spirito della sinistra. La sinistra è abitata fin dall'inizio da una contraddizione, a mio giudizio, come bene ha colto Jean-Claude Michéat in Francia o come hanno colto anche Boltanski e Chiappelot nel loro libro Le Nouvelle Sprite du Capitalisme. La sinistra ha da un lato un'anima socialista operaia, quella del lavoro, delle lotte di classe, e poi ha un'anima di critica dell'ipocrisia borghese, una critica artistica del capitalismo, progressista, illuministica, che coesiste con l'altra. Nel 68 è come se queste due si separassero e rimanesse solo la critica artistica del capitalismo in nome dell'illuminismo e della borghesia e sparisse sempre più l'altra critica. E il capitalismo stesso metabolizza questa critica. La mia tesi, che trova anche in Pasolini un suo punto di riferimento imprescindibile, è che dal 68 soprattutto il capitalismo cambia passo. Non è più un capitalismo borghese, un capitalismo autoritario, fascista, disciplinare, clericale, ma diventa un capitalismo permissivo, edonista, di libero consumo, che deve abbattere ogni limite per produrre la libera circolazione delle merci e delle persone e la individualizzazione consumistica del mondo. Ecco perché dal 68 i motti principali, vietato vietare, non esiste l'autorità, tutto è subito, divengono sempre più i motti della società self-service del capitalismo, di un capitalismo che diventa appunto gosciste, che trova con la sinistra questo punto di innesto, la lotta contro la tradizione, contro l'autorità, contro tutto ciò che freni il progresso capitalistico. Esce sempre più di scena la sinistra operaia, la sinistra falce martello, la sinistra di Lenin e di Marx, e resta sempre più la sinistra di Voltaire e della critica individualistica della tradizione e di tutto ciò che ostacoli il progresso. E quindi, come dire, c'è questo doppio movimento di integrazione di un capitalismo che diventa gosciste e di una sinistra che rinuncia sempre più a se stessa per aderire alla globalizzazione. Il capitalismo oggi è effettivamente anche di sinistra. Nancy Fraser ha coniato la formula neoliberismo progressista, per sottolineare la coesistenza del neoliberismo della destra economica e della sinistra del costume. Il neoliberismo, per rendere tutto merce disponibile, quindi destra economica, deve distruggere ogni valore della tradizione, deve essere di sinistra, deve essere progressista. Ecco, e qui sta l'innesto fra la destra e la sinistra nel quadro del nuovo capitalismo. Il 68 è stato un grande miraggio per certi versi, perché il movimento operaio è stato subito accantonato e ha trionfato una sinistra progressista, individualista. Possiamo dire che sulla falce il martello di Marx è prevalso il martello di Nietzsche, una sinistra che ha decostruito i valori borghesi pensando che così facendo si distruggesse il capitalismo, ma il capitalismo stesso che è passato alla sua fase post-borghese, un mondo in cui tutto sia merce e un mondo in cui non deve esserci nemmeno più la borghesia, che ha una sua coscienza infelice, anticapitalistica, Marx era un borghese ad esempio, e ha una sfera di valori non mercificabili. Quindi il 68 è stato antiborghese, ma ultracapitalistico, proprio come il capitalismo oggi è antiborghese, antiproletario e iperprogressista e qui si sposa molto bene con la logica individualistica della sinistra. Io credo che sia questo l'enigma fondamentale della sinistra oggi e del fatto che il capitalismo oggi si rivolga molto spesso alla sinistra per fare le proprie riforme contro le classi lavoratrici e a beneficio della liberalizzazione individualistica dei consumi e dei costumi.